Avevano costruito una ragnatela dello spaccio suddividendosi i compiti, ordinazioni, consegne ed ovviamente c'era chi si occupava di controllare la zona in caso di arrivo delle forze dell'ordine. L'area di azione era quella che ormai potrebbe essere definita come la piazza dello spaccio, ovvero campo di Marte. All'alba di mercoledì mattina sono scattate le manette per 10 pusher. Tutti i nordafricani ma tutti i clandestini sul territorio nazionale, comunque espulsi e rientrati. E quello che è più grave è che sono tornati a fare la loro attività, ormai la professione naturale di questi soggetti è proprio la commercializzazione, la vendita al dettaglio di sostanze stupefacenti e sono tornati a farlo nelle stesse piazze di spaccio di questo capoluogo. L'indagine era partita nel novembre 2015 per concludersi nel gennaio 2016. Nei mesi di attività investigativa con i classici metodi di osservazione diretta sono state documentate oltre 300 cessioni di stupefacente, hashish, cocaina ed eroina ad una clientela variegata, tossicodipendenti, professionisti ma anche numerosi giovanissimi. Trattavano un po' tutte le droghe, da quelle leggere a quelle pesanti, quindi significa che hanno una possibilità di rifornimento e di mercato che qualifica ancora di più la loro progrività a delinquere e la loro internità magari ad organizzazioni che questa indagine purtroppo non ha potuto documentare ma che sicuramente in altri contesti del territorio nazionale esistono. Il modus superandi era sempre lo stesso, piccole dosi di stupefacente per scongiurare così l'arresto confezionato in piccoli involucri termosaldati pronti così per essere inghiottiti in caso di arrivo di forze dell'ordine. Sotto la lente di ingrandimento le gallerie della zona Campo di Marte, Valdarno, Valtiberino e Casentino che erano diventate un vero e proprio labirinto dello spaccio all'interno delle quali lo stupefacente veniva comprato e come all'interno di un self-service consumato sul posto. Le indagini svolte sono state coordinate insieme alla Procura della Repubblica di Arezzo sotto la guida del sostituto procuratore Andrea Claudiani e Anna Maria Loprete. Alcuni depusher identificati sono stati catturati a Siene e a Pisa coinvolta anche una donna, moglie di uno degli arrestati, che risulta indagata.